E' mistero sull'agguato consumatosi questa notte in via San Mercuro, una strada di campagna alla periferia di Biceglie. Un uomo è sboccato dalla vegetazione e ha esploso due colpi di fucili all'indirizzo di un Audi A6 diretta verso la città, facendo perdere subito dopo le sue tracce. La persona alla guida dell'auto, un imprenditore agricolo di 65 anni, tra i titolari dell'azienda Extrafrutta, è rimasta miracolosamente illesa. E' stata la stessa vittima dell'agguato a raccontare ai carabinieri quanto accaduto. Erano quasi le tre di notte quando lungo la strada che porta al suo stabilimento, l'imprenditore è stato avvicinato da uno sconosciuto a piedi che ha imbracciato un fucile ed esploso due colpi calibro 12. I proiettili si sono conficcati nello sportello lato passeggero, lasciando illeso il 65enne, che ai carabinieri intervenuti sul posto ha riferito di non aver ricevuto minacce o richieste estorsive, né di essere riuscito a distinguere il viso del suo aggressore a causa del buio. I militari dell'arma non trascurano alcuna ipotesi, compresa quella dell'atto intimidatorio.